sono venuti qui per dirvi che tra il mio è pronto, passa a giorni quindi lo so che i giornalisti non capiscono neppure niente perché si fanno certe dichiarazioni io vai al terreno subito, tutto è pronto quindi la rega può dare o non dare il voto a Berlusconi Nau, la figura di San Migliafino, la lega darà il voto a Berlusconi Nau abbiamo fatto un patto assieme, lui ha mantenuto la parola tra i voti e noi manteremo l'alleato quindi nonostante le vostre analisi, chiamiamole così, sareste bozzati, mi dicevo che sareste bozzati oggi, 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 oggi lei prepararà anche festeggiare la bella giornata, mi prepararà in tutte le serie di grandi festeggiamenti e le piatte principali sarà come la danza intorno al palo della libertà l'albero della libertà quella vera però quella vera sempre avanti è quella vera è sempre come l'albero e già di subito io vi dico che preparate le sede perché già adottati i posti nelle feste perché sarà una grande festa dopo anni ci andavo a lontanerci se non è possibile poi ci vogliamo mettere in gallina poi alla fine piano piano è cominciato a cedere adesso ormai è fatto quindi preparate lavaggio e quindi ha premiato i dinti dinta calderonibosi alla fine fuori d'altra strada ha portato a casa di lontano l'altra 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 gente del Po è già un rappresentante di tutte le auge che abbiamo portato con adesso tutti i fiumi intorno alla regione perché i fiumi in Piemonte non erano del Piemonte adesso sono diventati della regione Piemonte così tutti i raghi lago maggiore lombardo piemontese sembrano cose naturali logiche no no per Roma non erano l'altro per lo Stato Italiano non erano l'altro ma sì i piemontesi non contavano più niente lago maggiore quindi sono maniati antiraghi invece lato che stavolta significa anche un passaggio primo nel Piemonte quello dei piedi de maniani che ritornano a casa di maniani che lo Stato si era tappato che ritornano a casa molte altre cose alcune cose sono importanti fondamentali per Cota finalmente a Cota avrà l'Inter e l'Iva soprattutto l'Inter che è una tasso aggressibile e che può utilizzare per frenare per fermare per richiamare quelle imprese che invece andrebbero all'estero seguendo il consiglio di Prodi e della sinistra andrebbe a dilocalizzare dell'estero quando Prodi sostenevo che la Cina era un'opportunità per quei cinesi magari per la nostra gente poco ebbene questa volta l'acqua è stato il primo passo l'acqua il primo passo da te l'acqua con tutti voi visto che la vado le preparate le sedie le bestie di ogni paese nel piazzo principale è un passaggio fondamentale dopo l'ingresso noi finiti cercheremo di portare a casa cos'è il valdecentramento allora strano che diventerà diventerà nota che si è portata a casa i ministeri che si è lasciati tutti a Roma per dare posto in altri giorni è possibile che tutto deve finire la Roma e mi diceva e mi diceva se vai ha fatto qualche rollo ebbene ebbene che mi chiedessi anche a Torino anche a Milano anche a Venezia bravo questo non sta per tutto l'estero sono cose che interessi e analisti non sa mai cosa scrivere fare le analisi e allora non cambia lì non è che noi abbandoniamo per lo scuola mettiamo no no si è dati i voti per prendere il terrorismo e che noi metteremo la parola fino alla fine bravo il suo lo scuola l'ultimo sarà quello inevitabilmente la lega non è nata solo per fare non è un piccolo partito solo per dire qualche elezione per fare diciamo delle elezioni no, è nata per liberare la padagna perché ci avevamo tutti i geni è una grande intenzione è una grande intenzione fino a quando la padagna sarà libera bravo anche se è una grande intenzione abbiamo fatto i figli abbiamo un po' di figli che vengono avanti i nostri figli non scattano non è che passano gli altri partiti hanno le stesse idee le abbiamo allevate con le nostre idee e quindi porteranno avanti le nostre cause che non finiranno mai siamo con la vittoria grazie grazie a voi grazie a voi grazie alla scelta la sorpresa che ti sento in data e quando l'ora ci mangiare che la tiene del periodino ormai è pronto pronto solo allungare la mano non pronto come iniziava Savoia quando voleva penalità gli arazzi sono maggiore i maccheroni stanno bollendo dobbiamo andare a penalizzare tutti noi siamo terroristi e sono i tempi basta quello che abbiamo Brava 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 buona bussi 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 Umberto Umberto vado a prendere l'acqua un vero un vero venito lontano marchese, c'è una postura di Italia troppa la bandiera una vai Roby una un arco urrà 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 batania litera 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 libertà 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 Libera! 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 Liber Valle d'Aosta Vemilia Vemilia Roania Vemilia 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 Vi Emilia I Vemilia I Vemilia Vemilia I Vemilia I Vemilia I Grazie a tutti.